Arriva anche ad Arezzo il progetto SOS Sordi, l'app che consentirà ai cittadini non udenti con un semplice click nel loro smartphone o tablet di lanciare un'allarme direttamente alla questura più vicina. Si tratta di un progetto che si aggiunge a un progetto già esistente che era quello di un SMS per la vita e che in realtà consente alle persone sorde di chiedere l'intervento degli operatori della Polizia di Stato attraverso un'email che viene inviata ad un terminale presente nella nostra sala operativa attraverso un'applicazione scaricata su smartphone o su tablet. È un'applicazione molto fruibile da parte delle persone sorde, molto intuitiva che in maniera rapida consente alle persone sorde di essere aiutate laddove ne hanno bisogno. È già attivo il progetto, i sordi possono già scaricare sui loro smartphone o sui loro tablet l'applicazione, inserire nella rubrica dell'applicazione l'indirizzo che è stato più volte indicato e chiedere il nostro intervento laddove ce ne sia bisogno. Le persone sorde sono molto contente di questo progetto perché da loro un'autonomia e un'accessibilità in situazioni di emergenza, nella vita quotidiana, molto spesso le persone sorde in situazioni di rischio avevano bisogno di un aiuto esterno o di una persona che li aiutasse. Invece adesso una persona sola, sorda, in casa, che non può telefonare ovviamente, attraverso questa applicazione può essere autonoma e mettersi in una situazione di sicurezza o salvarsi da un'emergenza. Le persone sorde sicuramente attraverso questi progetti avranno possibilità di avere una vita più serena, più tranquilla, possono sentirsi più sereni nella vita di tutti i giorni per i loro figli, per i loro cari. Questo non è l'unico progetto ma è un servizio per le persone sorde.